ciao oggi vi propongo un prodotto per la pulizia della casa fai da te perché acquistare tanti prodotti industriali proviamo anche a farli con le nostre mani e con più o meno naturali o che tutti abbiamo in casa questo per esempio è un prodotto industriale ma comunque già l'avevamo in casa e quindi qui c'è il risparmio ho usato un ammorbidente per bucato al profumo di fiori bianchi quindi scegliamo una profumazione molto leggera e che sa di pulito aggiungiamo l'acqua io sono andato un po d'occhio ma le dosi potrebbero essere due bicchieri di ammorbidente tre bicchieri d'acqua adesso aggiungiamo il bicarbonato e poi quello che vado a mettere sono delle foglioline di menta mojito aggiungo ancora del bicarbonato e ancora dell'acqua bicarbonato su per giù tre quattro cucchiaini ebola il mio prodotto è pronto adesso non ci rimane che andarlo subito a testare qualche tempo fa ho fatto già un video del genere su come igienizzare e pulire insomma un tappeto ve lo lascerò casomai se non l'avete visto il link sopra nelle schede che vi riporterà appunto al video stesso spruzziamo su tutto il tappeto e poi andrò a passare la mia scopa elettrica volendo si può anche usare la vaporella o un aspiratore qualsiasi che avete questa non è una pulizia proprio profonda il primo video che feci magari sì insomma ci sono due video come usare la vaporella e poi come igienizzare un tappeto questo diciamo è per una pulizia di tutti tutti i giorni una cosa veloce e sbrigativa ma per mantenere lo stesso un tappeto e la camera dove appunto c'è il tappeto profumata e nel mio caso la camera era quella da letto in modo semplice economico e pulito per mantenere il nostro tappeto igienizzato e profumato beh allora che cosa ne pensate volete testarlo anche voi poi magari mi fate sapere sotto nei commenti come è andato il vostro esperimento se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di lasciarmi un like questo modo supporterai il nostro canale e se non sei ancora iscritto allora iscriviti attiva la campanella sfoglia tutte le nostre piace un vasto mondo quello delle video ricette dei tutorial dei prodotti per la casa dei profumi siamo della natura c'è anche il video che riguarda le nostre gire nei boschi e i borghi antichi che vi porterà a scoprire i paesini del lazio un kiss e alla prossima